Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi mostrerò la posizione di tutti i libri con i quali dovrete interagire, quindi raccogliere, per completare l'incarico di oggi. Nel video i libri non ci sono, ma la posizione è corretta, quindi non appena disponibili recatevi dove vi mostrerò e troverete i libri a terra e potrete interagire con essi i libri e quindi completare la sfida. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.